Ringrazio per averci invitato a questo mito. Per quanto concerne il problema basica, chiaramente questo problema va affrontato sulla base di quella che è la destinazione d'uso che è prevista per quell'area. Chiaramente non ci dobbiamo inventare niente da questo punto di vista perché la destinazione d'uso prevede un'eventuale utilizzazione dal punto di vista della disabilità e quindi cercando di utilizzare cosa che mi vuole dover dire non è mai stata data l'occasione di utilizzare i famosi fondi comunitari che sono una specie di araba fenice perché in pratica tutti sanno che ci sono però non si capisce bene perché il comune di Crottaferrata non l'abbia mai utilizzato in tutti questi anni. Quindi questa potrebbe essere sicuramente l'occasione per farne un utilizzo valido. È chiaro che poiché dal impegno della basica potrebbe derivare a cascata una serie di possibilità dal punto di vista lavorativo e visto che in realtà la maggiore criticità dal punto di vista del mondo del lavoro, guarda caso, è proprio quella dei giovani è abbastanza evidente che da parte nostra ci sarà tutto l'impegno possibile per coinvolgere i giovani attraverso il Consiglio o altre strutture similari per essere inseriti in questo contesto. Grazie.